La sensazione che ha avuto subito nei suoi confronti è stata fiducia. Per quanto sia diffidente, penso che si sia capito, che sia una persona diffidente soprattutto nei confronti degli uomini, io con lui mi sono sentita tranquilla. Passiamo da momenti in cui ridiamo, ci divertiamo, poi passiamo a momenti in cui parliamo di noi, ci raccontiamo. È tutto molto spontaneo. C'è da dire che poi io però, quando mi capita una cosa bella nella vita, una cosa carina, quasi non ci credo. Quindi dico, dove sta la fregatura? Però stavolta mi sono detta anche basta, sempre con queste paranoie. Anche fino adesso non hai vista, no? No, per ora io sto bene. Può anche essere che non c'è la fregatura, no? Speriamo, forse la volta è buona. Ripeto, l'ho detto anche questa mattina parlando, è una cosa che ci tenevo a dirglielo. Che, ovvio, adesso sono due settimane che comunque ci vediamo, la mattina spesso è capitato che io l'ho chiamata, sei al lavoro, ero dalle sue parti, sono passata a prendere un caffè, è proprio una cosa, la conoscenza come sta a Roma, capita, no? Siamo stati al cinema, vabbè, ho fatto brutta figura al cinema l'altra sera, devo essere onesto. C'ha l'effetto soporifero, vi faccio addormentare. Grazie. 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 Grazie.